Alex Rins vince per la prima volta in MotoGP a Austin mentre Andrea Dovizioso prende il comando della classifica generale Buongiorno ragazzi sono Marchinhos2503 e oggi siamo qui ritornati per un post gara Scusate se lo faccio il giorno dopo ma ieri sera veramente stavo veramente male Infatti oggi anche non sto eccezionalmente ma siamo qui per parlare di questa gara di MotoGP Prima di iniziare a farlo vi dite a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale Un'iscrizione anche su Instagram e di commentare e di condividere il video con tutti i vostri amici Se volete fargli sapere meglio come è andata questa giornata di MotoGP Da quando è stato inserito Austin in calendario mi sembra dal 2013 Questa gara è sempre stata da pannaggio di Mark Markets che ha vinto sempre in ogni occasione dal 2013 in poi Che cosa è successo? E' successo che lui naturalmente partendo dalla pole position se n'è andato, ha fatto la sua porca gara Poi cosa succede? Che a 11 giri dalla fine alla curva 12 ovvero quella dopo il rettilineo lunghissimo Mark Markets casca e manda alle ortiche quest'altra possibilità di vittoria e 25 punti in campionato Quindi la corsa per la vittoria dopo che Cratchel si era suicidato nei primi giri E' stata fra Alex Rins della Suzuki e Valentino Rossi della Yamaha Rossi che è stato sempre davanti fino a 4 giri dal termine quando c'è stato il sorpasso decisivo da parte di Rins Che ne aveva nettamente di più e si porta a casa la vittoria Rossi coglie un ottimo secondo posto che lo proietta al secondo posto in classifica generale Classifica generale che adesso è comandata da Andrea Dovizioso che ha 3 punti di vantaggio su Rossi e 9 su Markets Il podio lo conclude Jack Miller con la Pramac, col team Pramac quindi con la Ducati Clienti Arriva quarto Dovizioso dopo che ieri, avanti ieri durante la qualifica non era riuscito a qualificarsi in qualifica 2 Successivamente abbiamo Franco Morbidelli, ottimo quinto posto per lui che è della Yamaha Clienti in poche parole Cioè la Yamaha Clienti sarebbe l'ex-tec-trois in poche parole L'ex-tec-trois Poi, sesta posizione invece per Danilo Petrucci Con l'altra Yamaha ufficiale a 21 secondi, distacchi molto molto larghi Quarta Rarò, ottima la prestazione dei due della Yamaha Clienti, settimo Quarta Rarò Ottavo pole Spargarò con la prima delle 2 Red Bull Anzi delle 3 Red Bull, scusate Nono Pecco Bagnaia del team Pramac, Nakagami conclude la top 10 con la sua LCR Honda Vediamo innanzitutto chi sono anche ritirati Perché purtroppo si è ritirato Crutchlow, compagno di squadra di Nakagami Si sono ritirati anche Marquez e Lorenzo Marquez per una caduta, Lorenzo per un problema E si è ritirato anche Alessio Spargarò che subito è caduto abbastanza presto nei primi giri La Formula MotoGP si fermerà per ben 3 settimane Tornerà infatti il 5 di maggio con la prima tappa europea a Erez della Frontera Quindi ragazzi, restate se siete sul canale perché oggi dovrebbe arrivare Forse, non lo so, non me ne occupo io anche il Gran Premio di Formula 1 Quindi il recap sul Gran Premio di Formula 1 Quindi noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao